gli audio racconti serie il giallo inglese il caso miss elliot di emma orkzi letto da adami l'uomo nell'angolo mi guardava al di sopra dei suoi occhialini bordati d'osso beh chiese un istante dopo beh ripete io un po stizzita avevo trascorso gli ultimi dieci minuti a chiedermi quanti altri nodi avrebbe fatto sullo stesso pezzo di corda prima di cominciare a scioglierli di nuovo le do fastidio chiese in segno di scusa mentre le sue dita ossute si infilavano insieme alla corda piena di nodi nelle grandi tasche del suo splendido cappotto di tweed si un'altra terribile tragedia disse calmo poco dopo le dottoresse non se la staranno passando bene ora questo era il suo classico modo di parlare in risposta ai miei pensieri senza ombra di dubbio la mia mente era persa in quell'intrigante mistero che aveva catturato l'attenzione di tutta scotlandiard e che aveva messo nell'ombra la triste storia di miss hickman e del suo tragico destino il daily telegraph aveva pubblicato un articolo di due colonne intitolato omicidio o suicidio circa la misteriosa morte di miss elliot direttrice della casa di cura a saffol cavenio e devo ammettere che il nostro abile dipartimento investigativo non si era mai occupato di un caso più delicato e stupefacente di questo sono rimasti disorientati questa volta non c'è dubbio disse l'uomo nell'angolo con uno dei suoi peggiori soggini ma oserei dire che l'opinione pubblica si sia arresa al fatto che non ci sia soluzione dato che la polizia non ne ha trovata nessuna perché lei può trovarla controbatté io con pungente sarcasmo la mia soluzione verrebbe derisa è troppo banale eppure è così logica miss elliot donna giovane femminile e di belle fattezze qualificata per la professione medica e responsabile della casa di cura a saffol cavenio una istituzione privata ed in gran parte mantenuta da donazioni benefiche già da un po di tempo circolavano commenti vaghi e dicerie su diversi giornali che sostenevano che le tante donazioni non fossero tutte utilizzate per il mantenimento della struttura ma come accade in ogni sorta di istituzione al pubblico non era lecito sapere niente di così definito e le donazioni continuavano ad arrivare mentre il tesoriere onorario della grande casa di cura continuava a vivere nella sua meravigliosa residenza ad emilton terras in un modo che avrebbe fatto invidia a molti suoi colleghi all'interno di quell'ambiente così stavano le cose quando il 2 novembre scorso sui quotidiani è stato riportato il breve annuncio con su scritto che a mezzanotte e un quarto due uomini camminando lungo bloomfield road si erano imbattuti improvvisamente nel corpo di una giovane donna col volto poggiato a terra vicino ai gradini di legno del ponticello che in quel punto attraversa il canale questa parte di maida vale come ben sa è generalmente poco trafficata ma di solito la sera è quasi deserta bloomfield road con la sua fila di casette a schiera ognuna col suo giardino e affacciate sul canale è praticamente sconosciuta a londinese medio il ponte stesso con gli scalini ad angolo retto e l'alto parapetto di legno offrirebbe un nascondiglio perfetto ad ogni ora della notte e per qualsiasi gesto atroce è proprio in questa zona d'ombra che gli uomini hanno trovato il corpo e a loro favore va detto che si sono comportati da cittadini dirigenti uno di loro è andato a cercare la polizia mentre l'altro è rimasto vicino al cadavere da giornali e libri rinvenuti sulla scena è stato chiaro sin da subito che la deceduta era miss elliot la giovane dirigente della casa di cura a suffol cavenio essendo molto conosciuta nel settore e avendo molti amici la tragedia ha suscitato sgomento ancora più accentuato quando hanno preso piede le voci secondo quali la donna si sarebbe suicidata nel più cruento e misterioso dei modi le indagini preliminari di medici e polizia infatti avevano rivelato che miss elliot era morta con un taglio alla gola profondo e minuzioso e il bisturi con il quale la ferita mortale era stata inflitta giaceva ancora nella sua mano serrata l'uomo nell'angolo consapevole come sempre dell'effetto che produceva sulla mia eccitata immaginazione si era fermato per un attimo dandomi il tempo per così dire di riordinare i pochi e semplici fatti che mi aveva illustrato non volevo fare alcuna osservazione sapendo già che l'unico modo per fare tesoro del suo interessante discorso consisteva nel non commentare e non contrattirlo quando si pensa che una giovane donna attraente all'apice del suo successo professionale abbia commesso un suicidio la gente è impaziente di riconoscerne la ragione dando origine così ad una specie di investigazione massonica ed amatoriale che di solito porta alla luce piccole ed importanti verità pertanto nel caso di miss elliot alcune informazioni avevano iniziato a circolare ancora prima dell'inchiesta con degli sviluppi davvero clamorosi voci che riguardavano l'amministrazione interna della casa di cura o meglio la mala amministrazione della struttura iniziavano ad assumere una forma più definita che le finanze fossero in una situazione instabile era risaputo da tutti gli interessati al benessere della struttura quello che non tutti sapevano però era che pochi ospedali avevano ricevuto donazioni più generose e che negli ultimi anni il centro era stato inondato di iscrizioni ciò nonostante tutte le infermiere dicevano che miss elliot aveva richiesto più volte fondi per esigenze reali dei pazienti fondi che le erano stati negati facendo appello invece alla necessità di risparmiare la casa di cura era come a volte accade con istituzioni di questo tipo sotto il controllo di un comitato di persone generose e distinte che non capivano niente di affari e ancor meno della gestione di un ospedale il dottor kinnard presidente dell'istituto era un giovane primario decisamente di successo di recente aveva sposato la figlia di un collega che aveva grandi ambizioni per sé e per il marito il dottor kinnard associando il suo nome prestigioso alla struttura era sicuro di aver fatto abbastanza per il benessere di quest'ultima di contro il dottor steppilton segretario onorario e tesoriere della casa di cura ci metteva tutto se stesso dedicandovi gran parte del suo tempo le iscrizioni e le donazioni passavano chiaramente per le sue mani essendo l'elegante e generoso comitato ben disposto a spostare tutte le responsabilità finanziarie sulle sue altrettanto ben disposte spalle era un uomo molto noto nella società uno scapolo con una sontuosa casa ad emilton terrace nella quale ospitava le personalità più eleganti ed illustri dell'ambiente sono state le edizioni serali tuttavia a contenere gli sviluppi più sensazionali di questo tragico caso sembra che il sabato pomeriggio mary dawson una delle infermiere stesse andando nello studio del chirurgo con un messaggio della capo infermiera quando la sua attenzione era stata catturata in uno dei passaggi dal suono delle grida che provenivano da una delle stanze si era fermata ad ascoltare un istante e aveva riconosciuto la voce di miss elliot e quella del dottor stapleton tesoriere onorario e presidente del comitato l'argomento della conversazione riguardava chiaramente il solito problema economico miss elliot aveva un tono indignato e l'infermiera dawson aveva captato queste parole sei sicuramente d'accordo con me che il dottor kinnard dovrebbe essere immediatamente informato la voce del dottor stapleton nel rispondere era sembrata prima sarcastica e poi minacciosa la dawson non aveva ascoltato nient'altro ed era andata a consegnare il suo messaggio tornando indietro si era fermata di nuovo nel corridoio e aveva provato ad ascoltare stavolta le era sembrato di sentire qualcuno che piangeva amaramente e il dottor stapleton parlare con voce dolce magari hai ragione nelly diceva in ogni caso aspetta qualche giorno per dirlo a kinnard sai come fatto alzerebbe un polverone incredibile e a quel punto miss elliot lo aveva interrotto non è giusto continuare a tenere il dottor kinnard all'oscuro di tutto chiunque sia il ladro è dovere tuo o mio comunicarglielo e se necessario consegnarlo alla giustizia l'uomo nell'angolo si fermò un istante e commentò se ben ricorda si è discusso molto sul grado di accuratezza con cui miss dawson era stata in grado di riferire le battute se in altre parole miss elliot avesse usato le parole o mio oppure e mio riesce a notare la sottile differenza non è vero la parolina e implicherebbe che miss elliot e il dottor stapleton fossero di comune accordo mentre un o significerebbe che la donna avrebbe comunque agito da sola se lui avesse rifiutato di smascherare il ladro tutti questi fatti come da consuetudine erano già venuti fuori come ho già sottolineato in precedenza non c'è da stupirsi quindi che nel giorno fissato per l'inchiesta del magistrato il tribunale fosse pieno sia di gente comune desiderosa come non mai di nuovi colpi di scena che di amici della donna deceduta tra i quali si riconoscevano giovani studenti di medicina di entrambi i sessi e infermiere in divisa io sono arrivato presto quindi avevo un buon posto dal quale potevo facilmente osservare i diversi attori del dramma che di lì a poco sarebbe cominciato degna di nota è stata la presenza di tutti i membri dello staff della casa di cura quasi fino alla fine dell'inchiesta nonostante gli impegni professionali i personaggi che hanno catturato maggiormente la mia attenzione però sono stati prima di tutto il dottor kinnart un irlandese di bell'aspetto sulla quarantina presidente dell'istituto e poi il dottor hernshaw un giovane primario in carriera con una smisurata sicurezza di sé che gli si leggeva sul volto roseo è stata di nuovo analizzata accuratamente la perizia medica miss elliot era morta senza ombra di dubbio a causa del taglio alla gola con il bistro ritrovato nella sua mano destra non c'era alcun segno di una possibile ribellione vicino al suo corpo ed esami accurati dimostravano l'assenza di altri segni di violenza sul corpo non c'era nulla quindi ad escludere l'ipotesi che la giovane donna si fosse suicidata in un momento di aberrazione mentale o di grande dolore personale certo era strano che avesse scelto questo curioso modo di morire aveva accesso ad ogni forma di sonnifero o veleno tra i quali avrebbe potuto scegliere i meno dolorosi e i più efficaci servendosi delle sue conoscenze mediche invece di arrivare in un angolo tetro ed isolato di domenica sera e commettere un suicidio in quel modo squallido che sembrava quasi opera di una pazza eppure le testimonianze fornite dalla famiglia e dagli amici tendevano a descrivere miss elliot come una persona felice particolarmente sana e di larghe vedute in ogni caso la teoria del suicidio a quel punto delle indagini era stata presa per buona e quando la gente di polizia fisc si era fatto avanti per testimoniare nessuno dei presenti era preparato ad una dichiarazione che avrebbe improvvisamente rivelato che si trattava di un caso tanto misterioso quanto tragico la versione di fisc era questa poco prima della mezzanotte di quell'indimenticabile domenica sera stava camminando su bloomfield road lungo il lato del canale verso il ponticello quando aveva sorpassato una signora ed un signore che stavano andando nella sua stessa direzione si era girato a guardarli e aveva notato che l'uomo indossava un abito elegante ed un cappello a cilindro e che la signora stava piangendo bloomfield road è nel migliore dei casi poco illuminata specialmente sul lato vicino al canale dove i lampioni non ci sono proprio fisc tuttavia era pronto a giurare che la donna fosse la vittima quanto al signore non era sicuro che lo avrebbe riconosciuto fisc aveva quindi attraversato il ponte e proseguito verso harrow road subito dopo aveva sentito le campane della chiesa di saint mary magdalene suonare la mezzanotte dopo un quarto d'ora era stato ritrovato il corpo della povera fanciulla constretto in mano il bisturi con il quale era stato commesso il terribile atto da chi era stata veramente lei e se così perché quell'uomo in abito elegante che l'aveva vista per l'ultima volta viva non veniva avanti per fare un po di luce su quel velo di mistero sempre più fitto è stato tuttavia mister james elliot il fratello della defunta il primo a fare un nome in tribunale nome da allora associato da tutti al tragico destino di miss elliot stava rispondendo ad una domanda del magistrato circa l'indole e lo stato d'animo della sorella negli ultimi tempi era sempre molto allegra ma ultimamente era ancora più raggiante e felice lei stessa mi ha detto che stava così perché un uomo per il quale nutriva molta stima provava un affetto sincero per lei e voleva chiederle di sposarlo e sa chi è quest'uomo ha chiesto il magistrato o certo si tratta del dottor steppleton tutti si aspettavano quel nome certo perché ognuno ricordava la storia dell'infermiera dawson eppure al momento della conferma tra tutti i presenti si è diffusa la sensazione difficile da definire che qualcosa di terribile stesse per accadere il dottor steppleton è in aula purtroppo il dottor steppleton era un assente giustificato un caso professionale di massima urgenza lo tratteneva di fianco al letto di un paziente ma si è fatto avanti il dottor kinnert presidente dell'istituto interrogato dal magistrato il dottor kinnert che evidentemente stimava molto il collega ha escluso ogni possibilità che i fondi dell'istituto fossero mai stati toccati dal tesoriere il solo alludere a tale evenienza risulta un'offesa nei confronti di uno degli uomini più brillanti del settore ha aggiunto anche che nonostante sapesse della grande considerazione del dottor steppleton nei confronti di miss elliot non pensava che ci fosse nessun fidanzamento ufficiale e in modo ancora più convinto che lui il dottor kinnert appunto non era a conoscenza di alcuna discussione tra di loro allora il dottor steppleton non le ha mai detto che miss elliot si era spesso irritata per l'eccessivo risparmio esercitato in una struttura generosamente sovvenzionata ha chiesto ancora il magistrato no non è questa una forma di reticenza piuttosto strana assolutamente no io sono soltanto il presidente onorario dell'istituto steppleton ha l'effettivo controllo del denaro ha risposto allora il magistrato non del tutto convinto comunque era chiaro che in quel momento non gli interessasse entrare nelle questioni finanziarie della casa di cura il suo dovere era quello di scoprire se il dottor steppleton ed il signore con l'abito elegante fossero la stessa persona gli uomini che avevano trovato il corpo hanno confermato l'ora 15 minuti dopo la mezzanotte dato che la gente fisca aveva visto la sfortunata fanciulla viva poco prima della mezzanotte l'ora del delitto o del suicidio se preferisce doveva collocarsi tra la mezzanotte e il quarto d'ora successivo ma ancora non era tutto quale drammatica e misteriosa vicenda non le pare continuò l'uomo nell'angolo abbozzando un sorriso tutte quelle persone in quell'aula affollata che provavano a ricostruire l'ultimo capitolo della vita della povera brillante direttrice e poi oh ma non voglio anticipare nulla c'era ancora un testimone da ascoltare si trattava del dottor hernshaw un membro dell'equip della casa di cura la sua testimonianza è stata molto breve ma di fondamentale importanza egli ha spiegato che ha il proprio studio a waymond street e che abita a westbourne square domenica primo novembre era andato a cena fuori a maida vale e tornando a casa pochi istanti prima di mezzanotte aveva visto una donna in piedi molto vicino alle scale del ponticello a bloomfield road stavo scendendo su formosa street e non avevo fatto caso a lei quando appena arrivato all'angolo di bloomfield road la giovane era stata raggiunta da un uomo con un abito elegante ed un cappello a indro quando ho attraversato la strada ho riconosciuto miss elliot insieme a il giovane dottore ha fatto una pausa quasi esitante prima dell'enormità della cosa che stava per dire mentre il fervore dell'aula si faceva quasi tangibile insieme a ha incalzato il magistrato al dottor steppleton ne è certo sì ne sono certo ho parlato con entrambi e loro con me e che cosa ha detto o il solito salve steppleton e lui ha risposto salve dopodiché ho detto buonanotte entrambi e miss elliot mi ha risposto altrettanto ho visto il suo viso più definito allora e ho pensato che sembrava molto triste e sul punto di piangere mentre steppleton appariva di cattivo umore mi sono chiesto allora perché avessero scelto quel posto desolato per una passeggiata a mezzanotte e ha detto che erano le ore dieci minuti prima di mezzanotte ho controllato l'orologio mentre attraversavo il ponte e cinque minuti prima avevo sentito il rintocco di un quarto alla mezzanotte suonare a quel punto era necessario che il magistrato sospendesse l'inchiesta la presenza del dottor steppleton risultava ora essenziale secondo la testimonianza del dottor handshow era stato sicuramente con la vittima un quarto d'ora prima della sua tragica fine l'agente fisk li aveva visti insieme dieci minuti dopo e per finire la donna piangeva delusa ancora non c'era alcuna accusa contro quel ricco dottore modaiolo ma la spettrale ombra del sospetto lo sfiorava ora con le sue terribili ali in quanto al giorno successivo al rinvio dell'inchiesta continuò l'uomo nell'angolo dopo una breve pausa posso assicurarle che non c'era nemmeno lo spazio per stare in piedi nell'aula era prevista per le 11 e alle 6 di quella fredda mattina invernale fuori dall'aula era già pieno di gente quanto a me riesco sempre a prendere un bel posto e ci sono riuscito anche quella volta sono piacevolmente convinto di essere stato il primo tra il pubblico a notare il dottor steppleton mentre entrava nell'aula accompagnato dal suo avvocato e dal dottor kinnart col quale chiacchierava piacevolmente intendiamoci sono un grande stimatore della professione medica e credo che un buon dottore di successo abbia spesso un'aria altezzosa dovuta alla consapevolezza dell'ottimo lavoro svolto con il relativo guadagno nel dottor steppleton questa aria altezzosa era ancora più accentuata rispetto ai suoi colleghi e dal calore con cui il dottor kinnart gli ha stretto la mano era abbastanza chiaro che lo stimato capo della casa di cura avesse deciso di escludere qualsiasi possibile sospetto circa l'onestà del suo tesoriere beh non voglio annoiarla rimuginando sui dettagli superflui di questa inchiesta cruciale l'agente fisc chiamato ad identificare l'uomo con l'abito elegante che aveva visto con la deceduta a pochi minuti prima della mezzanotte non è riuscito a riconoscere in modo certo il dottor steppleton e alla fine messo sotto pressione ha rifiutato di fare giuramento di contro il dottor hershow ha ripetuto in modo chiaro e categorico guardando il suo collega dritto in faccia l'accusa che aveva mosso il giorno prima ho visto il dottor steppleton e ci siamo parlati lo confermo tutti nell'aula guardavano il volto del dottor steppleton che mostrava un'aria di totale nonchalance quasi sprezzante ma sicuramente né colpevole né spaventata ovviamente a quel punto io avevo ben chiaro dove fosse il nodo di questo straordinario mistero ma nessun altro lo aveva capito e tutti sono rimasti con il fiato sospeso quando il dottor steppleton si è fatto avanti con calma verso il banco dei testimoni dopo alcune domande preliminari il magistrato gli ha chiesto all'improvviso dottor steppleton era in compagnia della vittima pochi minuti prima della sua morte mi scusi ma ho visto miss elliot per l'ultima volta viva sabato pomeriggio poco prima di tornare a casa dal lavoro questa risposta calma a voce ferma ha stupito tutti a quel punto anche il magistrato e la giuria erano meravigliati ma abbiamo qui due testimoni che l'hanno vista in compagnia della vittima pochi minuti prima della mezzanotte di domenica sera mi scusi ma i testimoni devono essersi confusi confusi credo che tutti avrebbero urlato quella parola con pieno stupore se solo ne avessero avuto il coraggio il dottor earnshaw si è sbagliato ha ripetuto steppleton con calma non mi ha visto ne ha parlato con me e può confermarlo sotto giuramento giusto mi scusi ma è il dottor earnshaw che deve confermare la sua di dichiarazione e per quanto riguarda l'elemento probatorio dell'agente fisc ha controbattuto il magistrato un po infastidito temo che non sia così vede l'agente sostiene che ha visto un gentiluomo in abiti eleganti parlare con la vittima un minuto o due prima della mezzanotte e che quando ha sentito la campana di saint mary magdalene scoccare la mezzanotte si stava allontanando dal ponte ora proprio mentre suonava la campana della chiesa io stavo entrando in una carrozza all'angolo di arrow road non più di un centinaio di metri di fronte all'agente fisc può giurarlo posso facilmente provarlo il cocchiere che mi ha portato da lì al mio club può confermare la mia dichiarazione e tra il massimo stupore john smith un cocchiere ha confermato di essere stato chiamato dall'ultimo testimone che gli aveva chiesto di portarlo fino al royal clinical club a mardon street appena partito le campane di saint mary magdalene avevano suonato la mezzanotte in quel preciso istante si ricorda l'agente fisc aveva appena attraversato il ponte e si stava dirigendo a darrow road e come aveva dettagliatamente confermato era abbastanza certo che nessuno lo avesse superato da dietro ora non c'è alcun modo di passare da un lato all'altro del canale se non sopra quel ponte l'altro ponte più vicino è ad oltre 200 metri la giovane donna era viva un minuto prima che la gente attraversasse il ponte e sarebbe stato impossibile per chiunque ucciderla metterle il pistoli nella mano correre 200 metri fino al ponte successivo e altri 300 fino all'angolo di arrow road per salire sulla carrozza e tutto nel giro di tre minuti questo alibi quindi ha assolto il dottor steppleton da ogni sospetto eppure guardando il modo in cui era seduto quell'uomo così calmo distaccato ed incurante nessuno avrebbe potuto avere altro dubbio se non quello che stesse mentendo mentendo nell'affermare di non aver visto miss elliot quella sera mentendo nel negare la versione del dottor hershow e mentendo nel dichiararsi ignaro del tragico destino della povera ragazza era la parola di un uomo contro quella di un altro e visto che il dottor steppleton era così palesemente innocente in merito al delitto non sembrava esserci alcuna motivazione valida per mentire sul fatto di aver visto miss elliot quella notte e così l'accusa stava per cadere in quanto poi alla storia dell'infermiera doson riguardo alla presunta discussione con miss elliot il sabato sera il dottor steppleton aveva ancora una volta una spiegazione semplice e logica la gente che origlia dai buchi della serratura aveva detto tende a sentire solo i frammenti di una conversazione e confonde dei semplici toni alti per litigi anzi io e miss elliot stavamo parlando del licenziamento di alcune infermiere della struttura che lei considerava delle incompetenti l'infermiera doson era tra quelle desiderava il suo licenziamento immediato ed io ho provato a calmarla questo era ciò di cui parlavamo posso giurare ogni parola l'uomo nell'angolo aveva smesso di parlare da un po e stava sistemando davanti a me un certo numero di fotografie una per una osservai una serie di facce che erano state viste con tanta impazienza nell'aula del magistrato di quel memorabile pomeriggio da una folla eccitata quindi il destino della povera miss elliot è rimasto avvolto nel mistero dissi alla fine per tutti tranne che per me ovviamente ah e quale sarebbe la sua teoria molto semplice mia cara così semplice che mi stupisce che nessuno nemmeno lei la mia fedele allieva ci abbia pensato potrebbe sembrare così semplice da essere stupida magari controbattei con altezzoso disprezzo o è solo un'ipotesi ovviamente ad ogni modo posso provare a raccontargliela se le va per farlo credo che il modo migliore sarebbe ripercorrere con me le voci trapelate e prima dell'inchiesta ma prima mi dica lei che cosa ne pensa delle dichiarazioni del dottor hershow e diverse persone hanno pensato che fosse stato lui ad aver ucciso miss elliot e che la storia di aver incontrato il dottor steppleton con lei fosse una bugia bella e buona impossibile rispose l'uomo nell'angolo facendo un nodo complesso al suo pezzo di corda gli amici del dottor hershow quelli con i quali aveva cenato quella sera hanno giurato che non era vestito in modo elegante e che non indossava assolutamente un cappello a cilindro e su quel punto l'abito da sera e il cappello l'agente fisch era stato molto preciso allora il dottor hershow si era sbagliato e non era il dottor steppleton quello che ha visto impossibile gridò di nuovo l'uomo mentre un altro nodo si univa ai compagni ha parlato con il dottor steppleton e il dottor steppleton ha parlato con lui bene allora perché il dottor steppleton avrebbe dovuto mentire al riguardo aveva un alibi così forte che non c'era nessuna ragione di dichiarare il falso nessuna forse perché non vede che doveva mentire così da creare scompiglio tra la polizia il magistrato e la giuria perché non voleva in alcun modo che si sospettasse neanche lontanamente che l'uomo che il dottor hershow aveva visto e l'uomo che aveva visto l'agente fisch con miss elliot dieci minuti dopo fossero due persone diverse due persone diverse bingo due complici di questa atrocità nessuno ha mai provato a smentire la verità sulla precarietà finanziaria della casa nessuno ha realmente negato che miss elliot sospettasse di alcune malversazioni e che stesse cercando di avviare una vera e propria indagine contro il tesoriere onorario che il tesoriere sapesse dove andassero a finire tutti i soldi è sempre stato abbastanza ovvio la sua sfarzosa casa ad emilton terras ne è la prova schiacciante sono altrettanto convinto però che il presidente dell'istituto facesse parte di queste malversazioni e che anche lui ne beneficiasse ampiamente il dottor kinnart esatto il dottor kinnart vorrebbe farmi credere che solo lui tra tutta l'equip della casa di cura fosse all'oscuro di tali ruberie impossibile e se lo sapeva senza indagare né provare a fermarli allora vuol dire che ne era complice concorda sì concordo molto bene allora il resto è abbastanza semplice quei due uomini indegni di portare il nobile titolo di dottori devono aver rubato per anni i soldi versati in beneficenza alla casa di cura fino a che non si sono trovati improvvisamente faccia a faccia con la realtà che aveva le forme di una giovane ragazza decisa a smascherare le frodi sistematiche degli ultimi anni questo significherebbe uno scandalo una disgrazia una rovina per entrambi perciò decidono di sbarazzarsi di lei con la scusa di una passeggiata serale il suo cosiddetto spasimante la tira in un angolo desolato ed adatto il suo complice è lì vicino nascosto nell'ombra pronto ad aiutare qualora la ragazza provi a ribellarsi o a gridare ma improvvisamente ecco che compare il dottor hershow riconosce stapleton e lo mette in difficoltà per un attimo i mascalzoni restano stupiti poi kinnard il più sveglio dei due si fa avanti saluta i due piccioncini con disinvoltura e dopo una conversazione di un paio di minuti ricorda per caso a stapleton di un appuntamento che quest'ultimo avrebbe in un club di saint james street allora lui capisce e coglie l'indizio congeda velocemente la ragazza lasciandola insieme all'amico e dopo più velocemente che può se ne va a prendere una carrozza lasciando il complice a concludere il piano mentre l'alibi a suo favore insieme alla dichiarazione del dottor hershow avrebbe sicuramente confuso e sviato la polizia ed è così che nonostante il dottor hershow avesse visto e riconosciuto il dottor stapleton l'agente fisk aveva visto effettivamente il dottor kinnard ma non lo aveva riconosciuto e così nessun sospetto era mai caduto su di lui quando l'agente fisk si era ormai voltato kinnard ha ucciso la donna e se ne è andato via con tutta calma mentre stapleton sul quale prima o poi sarebbero caduti tutti i sospetti è stato in grado di presentare il miglior alibi mai escogitato sono sicuro che un giorno o l'altro tutti gli imbrogli della casa di cura verranno scoperti e così anche qualcun altro ci vedrà chiaro come ci ho visto io ci pensi con calma quando sarò andato via mia cara e domani quando ci rivedremo qualora io dovessi sbagliarmi mi dirà qual è la sua dispiegazione di questo straordinario mistero prima che potessi rispondergli se n'era già andato ed io rimasi a fissare le fotografie di quei due uomini di bell'aspetto rispettabili e rispettati che il mio amico spaventapasse rianimato aveva coraggiosamente accusato di uno dei più ignobili crimini mai registrati nei nostri annuali gli audio racconti serie il giallo inglese il caso miss elliot di emma orkzi letto da adami ciao 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 ciao